Tutto quello che ha subito un commesso di un negozio di elettrodomestici dai suoi peggiori clienti. Pronto? Scusi, parlo con i televisori. No, sono uno scaldabagno ma può dire anche a me. Buongiorno. Buongiorno signora. Senta, un'informazione. Avete auricolari per orecchie? Sì, li trovo accanto agli occhiali per occhi. Mi scusi, ma questo telefonino ha la memoria espansiva? Sì signora, questo l'abbraccia, l'abbaccia, è tanto, tanto affettuoso. Mi scusi, con questo esempio posso chiamare gratis. E lei che gestore ha? Mia madre. Ma scusi, ma che tempo di durata hanno queste tv? Perché mi hanno detto che i Plasmon asciugano subito. Beh sì, in effetti io le consiglierei Savoiardi che... Asciugano meno. Bravo. Grazie. Prego. Senta. Prego. Come mi comporto se sul mio televisore vedo tutti i canali brizzolati? Guardi, l'importante è l'età che un televisore si sente dentro. Senta, mi ascolti, l'altra sera io stavo guardando una trasmissione con gli spiriti. Lo sa, ma mistero. E niente, all'improvviso la televisione... Si è spentata sola. Ma lei pensa che ci può essere collegamento? Senta. Dica. Questa antenna a 99 euro, quanto costa? 172 euro. Grazie. Dovere. Vorrei avere delle informazioni su qualche tostapane. Sì, ce la collega al reparto. Ah, si occupa lei dei toast? Sì, io faccio solo le spremute. Scusi, ma nei DVD c'è lei. Sì, solo che faccio la comparsa. Scusi, cuffie per non sentire la televisione? Accanto ai telecomandi per non cambiare canale. Grazie. Prego. Senta, scusi, ma queste cassette da 60 minuti quanto durano? 72. Chiedo scusa, avete pen drive da 8 gigan? No, mi dispiace. Se le fottute tutte le pen. Pronto? Pronto, buongiorno. Sento una cosa, internet non mi funziona. Eh, guardi, potrebbe trattarsi del cavo di rete. Eh, e com'è fatto sto cavo di rete? Molto semplice, assomiglia al cavo telefonico. Sì. Parte dal computer e si collega ad una presa direttamente al muro. Ok. Ora lei, provi a staccare la presa e a ricollegarla. Ok. E in questo momento... Pronto, buonasera, come posso aiutarla? Buonasera, ho un problema, praticamente non mi funziona il fax. Di preciso cos'è che non funziona? Ma per inviare invia, soltanto che arriva bianco. Provate a girare il foglio. Pronto? Ho un problema con la stampante, non mi funziona. È una stampante locale o di rete? Ma io non vorrei sbagliarmi, ma a me mi pare fatta di plastica. Non so. Non so. Non so. Ok. Oima nepriderita lo ufficial dato. Ok. Buonasera. Foto. Grazie a tutti